Ritiene di dover aggiungere altri medici per evitare l'interruzione di pubblico servizio. Vieni a Sciacca e ti porti i due soli medici che ci sono. E non è interruzione di pubblico servizio questo. Così oggi al nostro telegiornale il portavoce del comitato civico per la sanità Ignazio Cucchiara riferendosi alla vicenda del trasferimento del primario di ortopedia Giuseppe Tulumello da Sciacca ad Agrigento. Con la dimissione di quattro medici della ortopedia di Agrigento, all'ospedale di Agrigento sono rimasti tre medici. All'ospedale di Licata tre medici. Cucchiara si domanda come mai non siano stati gli ortopedici dell'ospedale di Licata, che fa parte del distretto del San Giovanni di Dio, ad essere trasferiti nel capoluogo. Licata è a soli 40 chilometri da Agrigento e nel rispetto del principio delle rete tempo dipendente, ictus, trauma, cardiologia, eccetera, eccetera, quei soggetti, quei cittadini pazienti, non avrebbero avuto, diciamo, non si sarebbero esposti a rischi particolari. Viceversa, se tu lasci scoperto Sciacca, e qua il servizio è stato, per quello che mi risulta, non in funzione per oltre un mese. Quindi lì c'è la prova, che lo dicono loro, lo dice Zappie, e lo dice il dirigente proponente, che c'è l'interruzione di pubblico servizio. No, ad Agrigento non c'è l'interruzione di pubblico servizio con tre medici, qua invece c'è. E questa è di una gravità unica, il commissario, il dottore Zappia. Ha dato a Tulumello prima l'incarico temporaneo, dopodiché è stato fatto un atto di interpello. Sono stati interpellati i due primari, quello di Licata e quello di Sciacca. Qualcuno di voi vuole diventare primario di Agrigento? L'unica domanda è stata quella del dottore Tulumello, il quale ha detto, sì, io sono pronto. Quindi la conclusione qual è stata? Che noi, Sciacca, non ha medici, ha perduto il suo primario, però si dice nella delibera, attenzione, c'è un'autorizzazione da parte dell'assessorato per l'esplitamento del concorso di primariato per l'ortopedia di Agrigento. Noi abbiamo la certezza che questa autorizzazione potrà essere utilizzata per il concorso, per il primario dell'ortopedia di Sciacca. Ma questi ci vogliono prendere in giro? Per Ignazio Cucchiara tutto quello che è successo conferma come ci sia un disegno politico ben preciso contro l'ospedale di Sciacca. E questo ci fa capire come quel progetto che è uscito qualche mese fa dall'assessorato, laddove a un certo punto si parla di Sciacca come un ospedale che viene retrocesso e diventa ospedale di base. Qua c'è un disegno ben preciso e noi qua, signori sindaci e deputati, che facciamo? Due mesi dopo la manifestazione in difesa del Giovanni Paolo II, Dea di primo livello finora mai entrato in funzione con questa qualifica, il portavoce del Comitato Civico per la Sanità sollecita sindaci e parlamentari del comprensorio. Si sveglino. Ma io penso intanto che siamo in ritardo e che il Presidente della Regione Schifani che immediatamente si è preoccupato di esprimere anche se con un linguaggio privo di la più elementare cognizione dei fatti, ha detto sì, vabbè, per Sciacca va bene e si era dichiarato disponibile a un incontro. Questo incontro quando lo facciamo? Dopo Pasqua? Dopo il prossimo Capodanno? L'idea è che qua, su questo territorio, si può fare tutto. Tanto dicono i furbacchioni del versante orientale della provincia, niente, dicono, chiede, non vi preoccupate, lei faccia così, non si preoccupa perché poi ci penso io, io sono il suo ombrello di copertura. Noi assisteremo a una situazione identica a quella dell'ortopedia in un altro reparto che passa per un reparto rilevante. in un altro reparto